Quarta corsa a Dagnano, premio lana, una condizionata per anziani sulla distanza del miglio, insalchi gentleman non vincitore di 40 corse in carriera. Benedetta F.S. assume l'iniziativa nei confronti di Cecilia Jett. Una volta in testa Benedetta F.S. è già in gestione, arriva Baldwin che probabilmente otterrà il via libera, primi 200 metri in un normale 14,8. Ha risparmiato il più possibile Benedetta F.S. e Baldwin sfila a condurre. Terza posizione alla corda per Cecilia Jett. Terza ruota per Cornaro Gas. Si presenta Daniela V. su Baldwin che lo respinge. Così Daniela V. riesce a convergere lungo i paletti. C'è stata la rottura del favorito Cornaro Gas. 43 e mezzo i 600. Notevole il quarto successivo ai 200 iniziali. Daniela V. imprevedibile battistrada. Metà percorso in 58,8. Daniela V. in seconda posizione dietro Baldwin. Pardon. Poi Benedetta F.S. si arriva così al chilometro in 1,13,9. Guadagna posizioni all'interno Cecilia Jett. Che buca Benedetta F.S. si è mosso Daniela V. tre quarti di miglio in 1,28,7. Daniela V. sta passando su Baldwin. Che corsa Daniela V. entra in retta d'arrivo in chiaro vantaggio nelle mani di Emiliano Camillo. Daniela V. alla grande. Mentre Big Band LF emerge per la piazza d'onore e prova anche l'aggancio a Daniela V. Che negli ultimi metri ha messo i piedi nella colla. Ma il vantaggio è notevole. E così Daniela V. arriva fino in fondo. Daniela V. ed Emiliano Camillo. A sorpresa nella quarta del pomeriggio sorprendente anche il secondo posto di Big Band LF. Al terzo emerge Belvolo. 1,58,8 il totale. Media di 1,14,3 per il figlio di Noè, Dasolo e Sirena del Sile. Di proprietà del signor Giovanni Grillo. Claudio De Filippo al training. Grazie. Grazie.